Giuseppina Catanese, Presidente dell'Associazione Pierangelo Capuzzi Matila, vera protagonista di questa associazione, una delle protagoniste, meglio perché poi c'è un lavoro d'equip, una partecipazione di tutti, per questo falò, un elemento forte della tradizione fagianese. A me preme innanzitutto dire che abbiamo raccolto l'invito del nostro sindaco, del nostro parroco per i festeggiamenti del Santo Patrono, è stato un lavoro veramente, noi abbiamo coadiuvato il comitato dei festeggiamenti di San Giuseppe e il nostro compito è stato quello appunto di allestire il falò e tutto ciò che comporta l'allestimento del falò, quindi la raccolta delle fascine nei campi e poi ovviamente la messa in opera. La cosa bella che ci è piaciuta, abbiamo anche raccolto la condivisione di tante persone che ci hanno aiutato e poi quello di coinvolgere i bambini. Abbiamo chiesto per esempio ai bambini del catechismo di realizzare dei cartelloni dove c'erano delle preghiere, delle suppliche a San Giuseppe e queste suppliche, questi cartelloni, questi striscioni li hanno portati insieme ieri sera insieme alle catechiste al falò, li hanno sistemati insieme al falò e poi si è elevata questa preghiera al santo, quindi una preghiera universale che serve a tutti. Grazie a tutti!